Facciamo un giro? Sì, siamo in 4.000 su Twitch in questo momento. Allora, ragazzi, vedete? Avete visto Social Boom per caso in giro? No, con lo sfigato. E il Cristale? No. Ah, cazzo no, perché erano in Irle, erano qui Social Boom e il Cristale, li conoscete? Se lo vedi in giro, fa una brutta fine. Social, non di far vedere a Rimini in zona ruota, mi raccomando. Si dissocia però automaticamente. Ehi, ehi.